continuiamo con il simple mind stasera quasi non si ce li ho in macchina non li metto quasi mai in casa allora vi faccio una lettura vi faccio una lettura questo è tratto da un romanzo di carlos castaneda il potere del silenzio che è un romanzo uno degli ultimi credo che sia uno degli ultimi da vivo se non l'ultimo però questo è un romanzo che se non si sono letti tutti i precedenti non si capisce un cazzo però ci sono dei trafiletti che secondo me possono avere un loro valore e adesso vi leggerò due trafiletti dal bigino il guerriero sa che quando l'inventario di un uomo è inadeguato o quell'uomo lo amplia o il suo mondo di autoriflessione si disintegra la persona comune è in grado di incorporare nuove componenti nel suo inventario soltanto se esse non sono in contrasto con l'ordine fondamentale se invece lo contraddicono la sua mente collassa l'inventario è la mente e su questo che si base il guerriero quando cerca di infrangere lo specchio e dell'autoriflessione ci sarebbe da parlare per ore su questa cosa l'ho già detto il tonal va difeso va modificato va ripulito ma non si può buttare via se no diventeremmo pazzi ma di tanto qualcuno impazzisce da fuori di testa si butta dal punto quando si affrontano determinate cose bisogna essere integri la descrizione del mondo l'inventario è ciò che ci protegge quindi non si può buttare all'aria lo schema di base lo stile di base vedete che è tutto collegato è tutto collegato tutto collegato la vita è analogica ragazzi è analogica non si butta via lo schema di base si capisce che è incompleto ma non si butta via anche un combattente non butta via la sua disciplina di base cerca di ampliarla capirne i difetti ma non la butta via perché è quello che lo tiene insieme è quello che gli da poi forse un giorno riuscirà a buttarla via ma quando riuscirà a buttarla via sarà diventato una cosa oltre 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 prima dobbiamo difendere la nostra descrizione il nostro inventario spero di non avervi tediato eh insomma guardate amici miei credo che sarà l'ultimo video questa qua di simple man però non mi piace è un po' una minchiata di nuovo buonanotte ciao